A.A.A. cercasi guardiano dei pali e l'annuncio virtualmente affisso dall'area mercato del Bari in cima alle priorità del calcio mercato estivo 2024. L'addio di Brenno, portiere arrivato dal Brasile con le credenziali di vice Caprile, rivelatosi invece non ancora pronto per il calcio italiano, è stato consumato nel silenzio e senza alcun rimpianto, con Pissardo, titolare nel finale di stagione, candidato a restare in rosa e il baby Pellegrini con contratto rinnovato per un altro anno e caccia aperta al numero uno del futuro. E i nomi sono dati dall'asse Magalini di Cesare per assicurare a Moreno Longo un altro portiere entro l'avvio del ritiro di Roccaraso, in calendario il 10 luglio, non sono pochi. Le piste che portavano ad Adrian Semper, 26enne croato del Como già allenato da Longo in passato, e Andrea Fulignati che Magalini aveva avuto con sé a Catanzaro si sono presto raffreddate. Il primo dovrebbe restare sul lago in Serie A, il secondo è destinato alla Cremonese per una cifra ben superiore al milione di euro. Così nel casting bianco-rosso per la porta restano in lizza quattro nomi, una lista dalla quale al momento escludiamo Alessandro Micai, portiere del Cosenza che ha già parato per quattro anni in bianco-rosso. Per lui un semplice sondaggio di inizio mercato senza che la chiacchierata sfociasse in una vera e propria trattativa. In cima alle preferenze tecniche del Bari ci sarebbe Nicola Leali, 31enne legato da altri due anni di contratto al Genoa che in via è stato protagonista con Lascoli. Un sondaggio c'è stato, ma il club ligure che ha già venduto il titolare Martinez all'Inter al momento nicchia sul tema cessione. Gradimento alto per la soluzione Bari è stato quello espresso da Mirko Pigliacelli, portiere classe 93 in uscita da Palermo dopo un biegno in rosa nero e sondato anche da Catanzaro, Spezzi e Pisa. Complici i buoni rapporti tra l'entourage del giocatore e il DS Magalini, l'operazione potrebbe decollare in breve tempo con una buona uscita da assicurare al Palermo per un portiere sotto contratto fino al 30 giugno del 2025. Al vaglio ci sono questioni atletiche. Pigliacelli, alto 184 centimetri, non corrisponde in pieno a quell'identikit di portiere molto strutturato fisicamente che Longo vorrebbe. La sua abilità tra i pali, unita alle qualità in fase di impostazione, potrebbero però far pendere il bilancino dalla parte del 31enne romano. Discorso simile a quello fatto per Pigliacelli dal punto di vista atletico riguarda Samuel Pizzignacco, 23enne retrocesso con la Feralpi Saloma, protagonista di un buon campionato sul piano personale. Assicurerebbe meno esperienza, ma non occuperebbe posti in lista over. Stessa valutazione anagrafica per Alessandro Sorrentino, classe 2002 in campo sette volte nell'ultimo campionato di Serie A con il Monza, condivide i procuratori di Favasoli 2004 della Fiorentina destinato ad approdare in bianco-rosso e il suo nome è emerso nel corso di recenti chiacchierate. Un poker di candidati, una porta da difendere per il Bari 2024-25. Adesso è tempo di scelte.